Un intervento per la riqualificazione della cinta muraria di Arezzo, a partire dalla zona verde antistante il Palazzo della Prefettura. È l'investimento proposto dall'assessorato alle opere pubbliche del Comune di Arezzo. Interveniremo con interventi strutturali sulle mura, a partire dalla zona di Trento Trieste, Pioborri, tutto il bastione della Pioborri. Questo qui dall'anno prossimo con il bilancio 2016. Qui per il momento interverremo per pulire quest'area che vedete è incurata ormai da anni. E a causa di quest'incuria ne risente anche la parte strutturale, perché ci sono pietre che cadono, non a caso è delimitata tutta l'area. Questo è soltanto il primo di una serie di interventi, infatti stiamo predisponendo un piano d'azione per riqualificare un po' tutta la città. L'opera di manutenzione prevederà il sostenimento strutturale del bastione che costeggia Viale Piero della Francesca, in prossimità della stazione ferroviaria, ponendo limite alla crescita incontrollata degli arbusti. Stanno pulendo tutta la zona sopra il bastione che verrà comunque interdetta alla fruizione del pubblico perché non è in sicurezza e perché non è illuminata e mai frequentata. Nella fase successiva dove interverremo con la ristrutturazione di tutta questa parte muraria, contiamo di prevedere anche delle installazioni di illuminazione di messa in sicurezza in tutta la zona sopra il bastione, pertanto a quel punto sarà fruibile dal pubblico. Grazie.